Sono 57 i comuni piemontesi al voto il prossimo 31 maggio. Per tre di questi, Valenza in provincia di Alestandria, Moncaglieri e Venaria nel Torinese, è previsto il ballottaggio nel caso in cui nessun candidato superi il 50% dei voti, perché comuni con popolazione superiore alla soglia di 15.000 abitanti.